Nuovi strumenti per rilanciare l'occupazione, con misure in grado di favorire l'inserimento lavorativo di giovani stato di svantaggio attraverso la promozione di dispositivi per la formazione, con priorità al contratto di apprendistato. Se ne è discusso nel corso del forum agevolazioni per l'occupazione in Campania, organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. La riforma del lavoro non è solo l'articolo 18, l'articolo 18 è il perno principale, ma intorno all'articolo 18 ci sono tanti incentivi. Ieri sera Passera al telegiornale spiegava che è necessario in questo momento per spingere l'occupazione e la crescita dare una serie di incentivi. Sicuramente si parte dal sud perché conosciamo i problemi e i mali della nostra regione e quindi credo che sia necessario che il governo da parte sua e la regione per quanto riguarda i nostri localismi possa in qualche modo con grandi impulsi, con risorse necessarie, possa spingere il mondo dell'occupazione che veramente ha grande bisogno e non spingere gli imprenditori locali ad appoggiarsi ad operazioni che non hanno certamente grande segno di legalità. Il lavoro è un'agenzia di creatura nazionale che cerca di risolvere i problemi del lavoro dei precarati. Loro ci illustreranno diversi progetti dall'apprendistato professionalizzante ad altri tipi di progetti che possono creare occupazioni per i giovani dando anche alle imprese poter utilizzarli meglio per lo sviluppo economico e aziendale. Il programma AMVA, sviluppato da Italia Lavoro, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mira la realizzazione di un'azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e per la formazione. Il progetto più importante è AMVA, il progetto che favorisce l'inserimento dei giovani col contratto di apprendistato, il contratto su cui anche la nuova riforma del lavoro dovrebbe puntare per la nuova occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile. I dati sono confortanti, c'è un forte collamento con la Regione Campania e speriamo che a breve i risultati operativi siano confortanti. Italia Lavoro assiste e affianca l'Inps nella diffusione e nella promozione di questo strumento che consente di andare a coprire una serie di fatti specie dove il lavoratore può emergere dal lavoro nero attraverso una forma di copertura previdenziale ed assicurativa per la corrisponzione di compensi legati ad attività e a lavori saltuari ed occasionali. L'obiettivo è favorire l'inserimento lavorativo di giovani nel mercato del lavoro in un momento in cui le imprese faticano ad assumere. Questi sono provvedimenti necessari, importanti e che sono determinanti per la ripresa economica, per la ripresa del tutto il sistema imprenditoriale. Oggi noi abbiamo un costo del lavoro che è in percentuale il più alto d'Europa e come abbiamo poi letto qualche settimana fa abbiamo i salari più bassi d'Europa. Allora è necessario che ci sia un'equazione che porti salari più alti e ci sia un costo del lavoro molto più basso. È vero che l'Europa ci impone determinate operazioni, però noi dovremmo tener conto che nel Sud abbiamo dei problemi grossi e quindi attraverso contratti quali possono essere quelli previsti della legge Biagge, della quale Commissione io già faccio parte, quindi abbiamo avviato al lavoro dei giovani con questo tipo di contratti, contratti di formazione. L'Italia Lavoro che insieme alla Regione ha sottoscritto degli accordi che permettono di godere di una serie di agevolazioni per delle nuove assunzioni. Sono delle agevolazioni che si caratterizzano soprattutto per essere diciamo coerenti con la realtà per il semplice motivo che permettono per un determinato periodo di tempo di avere assunti dei lavoratori con delle agevolazioni senza l'obbligo poi successivamente di doverli per forza assumere. Nel corso del convegno è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l'ordine dei dottori commercialisti e dei esperti contabili del capoluogo per Tenopeo e l'Inps dell'area metropolitana di Napoli, una sinergia, quella tra istituti, in grado di generare numerosi vantaggi per i professionisti. Sicuramente la possibilità di accedere a tutti i servizi informatici, telematici che l'Istituto ha messo a disposizione e quindi c'è l'erità nella trasmissione delle istanze, c'è l'erità nella risposta, non contatto fisico che fa rallentare tutte le risposte della pubblica amministrazione. Abbiamo visto qual è l'obiettivo del Governo, quello di telematizzare tutte le istanze che si rivolgono a qualsiasi pubblica amministrazione e evitare di girare carte fra le pubbliche amministrazioni con una sinergia quanto più informatizzata possibile fra le amministrazioni pubbliche. I privati sicuramente già hanno grosse possibilità di accedere al distinuto. Il nostro obiettivo è quello di azzerare qualsiasi contatto fisico che non sia necessitato. Il protocollo fa seguito all'intesa con la direttrice regionale Maria Grazia San Pietro, firmato da tutti gli ordini dei commercialisti campani. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo,